ciao ragazzi eccomi qua per un unboxing come avevo detto di far cry 3 per pc dentro c'è the last expedition edition 2 missioni esclusive per il giocatore singolo vedete bello pagato 49.98 sono qui davanti a voi adesso non posso farvi vedere c'è il codice il retto di istruzioni misero 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 proprio acqua un po sfavolo delle spese perduta 2 scusano 40 minuti da cognitivo iniziale per il giocatore singolo giocatore singolo molto giocatore c'è una pistola una vita per giocare il vostro eco e poi forte il storm gratuito accesso 31 12 invitazione si esce il codice promozione scarica il gioco proprio grazie per sette giorni poi c'è qua partecipa scusate messaggi miei questa è la skin di gioco questo è il mio cd è la skin di gioco uguale questa è la skin di gioco e questo è il gioco poi come domani vado a prendermi la wii con 200 miei giochi al lancio mi sono preso questo però non ho pagato 49 come c'è scritto qua dei miei amici della media ho pagato 19,99 della storia devo aprirlo subito mi hanno consigliato questo pandoro tau devo prendere wow punti belle la skin di gioco altra skin di gioco bellissima poi pubblicità libretto vediamo il petto corposissimo tutto a colori guardate qua a colori bello corposo bellissimo bello questo libretto poi sulle solite cazzate beh qua c'è il progetto il progetto adesso ne vado solito a riscattare questo è stile di gioco anche col pad mi hanno detto che è bellissimo io ho preso poi 19 euro e poi mi hanno detto che anche questo qua vedete che stava 40 euro io l'ho pagato 19 e 99 sino black cronaco ho detto che è un gioco della madonna anche questo dobbiamo aprirlo punti bella la skin bellissimo felicità wow il bisciolo bello corposo spero che della Wii U sia più o meno così perché se non che mi intendo se è ristretta bellissimo tutto a colori spettacolare ecco qua questi sono i miei acquisti di oggi due per Wii che mi hanno detto che poi avrà una grafica spettacolare sulla Wii scaricando ragionamento questo si vedono accade anche questi questi sono per Wii pagati 40 euro tutti e due grazie ai miei amici e questo ho preso anche stop Far Cry lo storio subito così ci gioco niente ragazzi questi erano i miei acquisti spero vi sia piaciuti ci vediamo domani sera ragazzi domani pomeriggio per fare il mega unboxing della Wii U con 13 giochi al lancio accessori tutto quanto a domani seguitemi ragazzi iscrivetevi al mio canale spolliciate in su alla prossima raga ciao ciao